Scusate, scusate, 3 e mezzo, 1 e mezzo, non 4 e 1, fermi, e adesso col nero abbiamo ancora dei problemi, no, giochiamo G6, torniamo 3 e mezzo, 1 e mezzo, raga Però il tipo può far di tutto, ok, questa, va bene Cambiamo canzone, ciao Copper, benvenuto Fermi, cambiamo canzone Ok, non ci sta, mettiamo tipo, intanto tocca a me Tipo, vabbè intanto facciamo al rocco, no, no, ok, ma Sherry ci sta Perché patta non lo so, raga, non lo so ma non sta a me Farmi certe domande, io mi prendo la patta, raga Sul 3 a 1 ci si prende la patta e si vola, ok, di 5 Abbiamo anche più tempo qua Chi arriva a 4 e mezzo vince, raga Il primo che arriva a 4 e mezzo vince, siamo a 3 e mezzo e 1 e mezzo Quindi, ci piace ma il match non è finito raga Questa k6 mi da un sacco di ferro, perché ho fatto.. perché gli ho lasciato fare tutto ciò? perchè ho lasciato che lui facesse tutto questo ok posso fare alfiere F5, non mi piace la posizione, devo essere sincero mangiamo qua e mangiamo qua, però non mi piace C5, c6, perché altro di qua è pericolosissima, K4H5 è pericolosissima, arriva subito e facciamo presa, ci mangia di pedone, diamo scacco e proviamo a cambiare le donne ciao King, tutto benvenuto ok, donna safe, proponiamo il cambio che lui accetta l'acconcione è ovviamente molto utile, vuol dire che è F6, non mi piace ok, stiamo dicendo che lui rifiuterà di sicuro, vabbè, sto zitto sta zitto il moro, sta zitto, perché ha cambiato le donne? va bene raga, va bene, va bene, solidi stiamo solidi, cerchiamo di giocare torre C8, torre C4 e E6, l'alfiere lo devo riciclare da questa parte dai raga, calmi, calmi, siamo 3 e mezzo, 1 e mezzo calma e sangue freddo farà tipo questa vuole farmi A4, A5 come piano, lo so però noi riportiamo il cavallo di qua per poi andare in C4 magari ah no, vuole fare F4, F5 giustamente, altro che si, per l'attività italiana, grazie si per esempio, da, per l'attività, mi ha proprio pericolato pericolò, non è che mi ha pericolato, ma mi ha pericolato vuole fare F4, F5, ok, noi dobbiamo andare per il nostro non l'abbiamo impedita F5 perché mi dà un sacco di fastidio raga perché mi dà un sacco di fastidio però noi possiamo fare cavallo A5 lo stesso se mi fa F6 il F8 ha chiuso un sacco di qua magari va bene per lui, però è comunque una decisione difficile è comunque una decisione difficile chiudere tutto raga noi stiamo soli, se ci mangia, noi mangiamo l'alfiere tiene la casa F6 finché l'alfiere tiene questa casa noi siamo sereni che calo C4 facciamo cambiamo le torri facciamo torre F7 alfiere F8 lui vuole portare il calo qua, ha ragione ha ragione mannaggia a me che gliel'ho fatto fare che gliel'ho permesso di portare il cavallo lì mannaggia a me e mo? ma son cazzi raga son cazzi raga questo è il riassunto della partita no facciamo torre qua indietro amarezza ma dobbiamo farla e portare il rene F7 non era quello che volevo fare lo so però io gioco sul fatto che lui con l'alfiere non può andare da moltissime non può andare da qualche parte di devastante ok torre C8 cerchiamo contro gioco eh si è fatto bene eh qua qua la sta girando bene raga qua la sta girando bene devo essere sincero re qua re qua ma questa la sta girando bene G5 ma abbiamo un pedone in meno G5 ma abbiamo un pedone in meno raga cavallo lì facciamo alfiere H6 bruttissima lo so bruttissima cerchiamo di cambiare le torri ciao a chiunque chiunque tu sia adesso siamo occupatissimi torre qua verrà qua torniamo qua alfiere torre lì giustamente aiuto no è persa raga qua qua siamo senza speranze qua siamo senza speranze raga ciao a chiunque ciao a chiunque ciao a chiunque